Sono Marco Marchese, lo speaker del secondo congresso di Liberi TV. Nel frattempo che Donato Volpicella pronta il collegamento con il direttore della Web TV, Gianni Colaccione, perché adesso è il momento della sua relazione, ringraziando Riccardo Cristiano, Presidente di Liberi TV per la sua sintetica, ma assolutamente completa relazione, per aver esposto anche i documenti di tesoreria. Do alcune comunicazioni di servizio. Se andate in un page su www.liberi.tv troverete chiaramente il box dove in diretta stiamo trasmettendo. Subito sotto c'è un box su un banner con scritto secondo congresso, accedendo a quella pagina troverete tutti i documenti congressuali. Troverete ordine del giorno, ordine dei lavori, troverete il regolamento congressuale, troverete i documenti di bilancio, troverete il bilancio del 2012, del 2013. Benvenuto al nostro direttore che per l'occasione è in giacca e cravatta, quindi in una vetta assolutamente inusitata, ci ha fatto una sorpresa. Benvenuto Gianni. Roba forte. Grazie, benvenuto a tutti. Grazie Marco. Prima di darti la parola Gianni per la tua relazione, stavo spiegando ai congressisti che si troveranno su questa pagina, cliccando in un page a Liberi TV sotto il box dove si sta svolgendo questa diretta streaming, sul banner dove c'è scritto il secondo congresso di Liberi TV, troverete tutti i documenti congressuali, per cui troverete il bilancio preventivo, i bilanci consuntivi che poi saranno messi ai voti, troverete questi tre importanti documenti che sono ordine del giorno, ordine dei lavori e regolamento congressuale. Allora, da ordine dei lavori, alla fine dell'intervento del direttore della Web TV, Gianni che è già collegato con noi e che vedete, scadono i termini per presentare gli emendamenti, agli ordini del giorno, ordine dei lavori e regolamento congressuale. Come si manda l'emendamento? Si manda utilizzando il Google Group che avete accettato, quello esclusivamente dedicato per questo congresso. L'emendamento va proposto inviando un'email al gruppo, viene recepito dalla Presidenza e viene messo ai voti. Cosa succederà adesso? Gianni farà il suo intervento, noi resteremo in attesa se ci sono proposte di emendamento, ordine del giorno, ordine dei lavori e regolamento congressuale, se non ce ne saranno andremo direttamente al voto dell'ordine del giorno, dell'ordine dei lavori e del regolamento congressuale. Vi spiegherò tutto mano a mano, vi spiegherò tutto come si svolgerà la fase di voto alla fine dell'intervento di Gianni Colacione, che è il direttore di Liberi TV e al quale cedo immediatamente la parola. Io ritornerò al termine dell'intervento di Gianni. Gianni, a te la parola per la relazione del direttore della WebTV. Grazie Marco, grazie. Io appunto svolgerò questa relazione come direttore fino adesso di Liberi TV. Ovviamente saluto tutti quanti, benvenuti tutti quanti a questo secondo congresso di Liberi TV. Vorrei aprire ovviamente, questa è una seconda relazione, quindi sicuramente siccome è stata preparata qualche ora fa, ci saranno qualche ripetizione rispetto alla prima di Riccardo. E comunque vorrei aprire, mi sembra doveroso, questa relazione con i ringraziamenti a chi ha reso possibile questo congresso, impegnandosi nella preparazione delle procedure congressuali. Sto parlando di Marco Marchese e a chi ha curato gli accorgimenti specifici per il sito e per il voto. Quindi il nostro segretario, nonché webmaster Donato Polpicella, io devo dire la verità sono stato un po' fuori da tutte queste cose perché non ne capisco molto e forse anche un po' di picrizia a dire la verità perché non è mai troppo tardi per imparare. Detto ciò, proverei a illustrare il lavoro editoriale fatto da Liberi TV, che è una parte che un po' più mi compete, con parole non banali e spero sintetiche. Un lavoro che in numeri si può riassumere in poche, ma importanti cifre, in poco più di due anni di attività nel rispetto della mission che questa web tv si è data e che è riassumibile nell'espressione che compare sotto il logo del sito, Liberi Spazi di Parola. Abbiamo realizzato ad ora poco meno di 1300 video, circa 1270 rotti video, ottenendo da questi siamo alle soglie delle 210 mila visualizzazioni complessive sul canale di YouTube. Sono numeri questi che variano di ora in ora e che possono essere anche lì variamente interpretabili da esperti di comunicazione, di media, di social e così via, da prospettive diverse, a seconda delle competenze. Io non ne ho molte, però farò qualche cosa da un punto di vista editoriale. Sono numeri realizzati da un piccolo gruppo di lavoro, una vera redazione, i cui componenti si sono incontrati fisicamente, raramente, tutti insieme, mai praticamente, nonostante ciò questa redazione è riuscita ad instaurare una sinergia nell'azione comune veramente importante e preziosa. Questa redazione, per farvi sapere un pochino come abbiamo realizzato questi numeri, le trasmissioni che ci sono alle spalle, ha operato questa redazione con appuntamenti fissi in conferenza Skype per tutto questo tempo, una volta a settimana, a volte anche con frequenza maggiore, per la preparazione dei paninsesti abbozzati già con 15 giorni di anticipo, poi resi definitivi la settimana successiva. Ciascuno dei componenti della redazione ha contribuito in modo importante, prestando la sua opera su livelli diversi. C'è stato chi ha contribuito con un criterio prevalentemente, ma non esclusivamente, tematico. Faccio l'esempio per esempio di Giancarlo Carciolari, per quanto riguarda tutta la parte, le tematiche, i commenti ai libri, gli spazi sulla psicanalisi e così via. E chi invece ha contribuito in base all'esperienza e una certa sensibilità con suggerimenti e apporti su ogni tema trattato e trasmissione preparata, ed è il caso appunto di Silvana Bononcini. C'è chi ha agito nell'oscurità della sala di regia, come Donato Volpicella, che peraltro cura egregiamente anche il sito. E poi ci sta chi cura invece chi si è interessato, quasi esclusivamente alla parte editoriale, con interviste, registrazioni degli eventi esterni, come il sottoscritto. Tutti questi contributi sono stati diversi tra loro, come diversi siamo tutti noi che componiamo la redazione di libri di V, sono stati tutti allo stesso modo importanti, come tutte importanti sono le tessere che compongono un mosaico. Vorrei sottolineare che anche nell'ambito delle riunioni di redazione abbiamo tenuto, abbiamo voluto incarnare il nostro slogan, in qualche modo, liberi spazi di parola per tutti, quindi in pratica abbiamo fatto in maniera che fosse possibile poter dire e opinare liberamente con assenzi o dissenzi, con un dibattito, su ogni tematica trattata dalla web tv. A questo lavoro del gruppo, della redazione, strettamente intesa, che non vado ovviamente ad analizzare del dettaglio perché in qualche modo le immagini parlano da sole, potete tranquillamente scorrerle sul nostro sito e vedere un po' di quello di cui si tratta, di cui sto parlando. A questo lavoro, nel tempo, o meglio al lavoro di queste persone che compongono la redazione, nel tempo si è aggiunto l'apporto di vari contributi più o meno durevoli, ma certamente frutto anche quelli di impegno, contributi che sono prevenuti, per esempio, da Claudia Sterzi con la sua leggera euforia, la trasmissione che cura tematiche antipropinzioniste, da Giovanna Devetag con lo spazio light, una finestra sugli argomenti vegan, sull'antispecismo e che non ha mancato di inoltrarsi fino all'approfondimento filosofico, abbiamo avuto anche degli eventi in cui queste due aree tematiche, l'antipropinzionismo, l'antispecismo in qualche modo si sono fuse in un dibattito sulla non violenza, ma poi per esempio ancora, continuando questa piccola elencazione, ci sta da menzionare lo spazio per esempio open market, curato da Fredo Paociulo, sui mercati finanziari. L'assetto volontaristico di Libri TV la rende elastica e le collaborazioni di chi accede agli spazi di parola che essa offre possono non essere e non essere state continuative, è infatti capitato che alcuni di questi contributi siano stati non sempre a cadenze fisse, a volte sospesi, poi ripresi, insomma certo la regolarità è difficile da assicurare e da offrire, soprattutto quando c'è un assetto di tipo così volontaristico come è quello di Libri TV. Tuttavia vorrei mandare un piccolo invito a tutti coloro che hanno colto questi spazi di parola, un invito a tornare per fruire in quanto rappresentano un tesoro prezioso, fruire appunto di questa finestra, di questa piccola finestra che è di Libri TV, un tesoro prezioso di pluralismo culturale, anche se questa espressione oggi è usata un po' a sproposito ed è un pochino diventata sinonimo di qualcosa di negativo, io la utilizzo avvalendomi dalla sua semantica letterale, cioè praticamente una concomitanza di apporti e di prospettive diverse e tutto questo è stato apprezzato dal nostro pubblico, anzi sarebbe anche bello e anche auspicabile che si potesse aumentare l'offerta tematica diversificandola. Libri TV ha cercato di trattare e offrire al suo pubblico tra gli altri spazi di approfondimento politico rispettando l'ispirazione aperta alle varie opinioni e tendenze. Il risultato ovviamente è stato non un equilibrio da par condicio, questa sì è una brutta espressione ma purtroppo è una esemplificazione che sintetizza un concetto in modo abbastanza chiaro, non siamo riusciti a realizzare un equilibrio perfetto ma certo l'impegno per offrire una pluralità di visioni c'è stato. Posso aggiungere che purtroppo l'aspetto non professionale, inseribile in quello che oggi comunemente si indica come il giornalismo freelance, è caratteristica che se da una parte offre una certa libertà, flessibilità, libertà di azione, di converso, penalizza a volte, mi è capitato, il riconoscimento nel mondo dei media professionali, sia per l'assenza di grandi numeri di utenza, sia per l'assenza di qualifiche professionali da poter presentare per ottenere in generale accreditamenti necessari per raggiungere esponenti politici di grande visibilità e anche ovviamente raggiungere i luoghi istituzionali dove essi operano. Il mondo dei media in Italia è un po' cristallizzato in assetti che opinono essere superati da vari punti di vista, a ciò si aggiunge la tavica ipoteca che la politica impone alla comunicazione a tutti i livelli, cosa che fa sì che uno strumento come LibriTV si trovi ad agire un po' come un agnello tra i lupi, ma non mi voglio dilungare su queste considerazioni che poi sono opinioni personali e più o meno condivise anche per non inoltrarmi in considerazioni da esperto di media, quale non sono. Posso solo investiamo sul campo grammo per grammo ogni volta che diamo spazio a storie ed eventi che riteniamo meritevoli di essere proposti al nostro pubblico. Personalmente aggiungo che quando a tale stima si è aggiunta ed è accaduto la gratitudine, mi sono sentito molto lusingato e ho provato una grande gratificazione. La gratificazione è importante nella vita degli esseri umani perché spesso è uno stimolo, è un supporto fondamentale per superare certe difficoltà, difficoltà che pur ci sono state legate sia alla scarsezza di mezzi economici e quindi anche tecnici, sia qualche delusione sui piccoli progetti non andati a buon fine e su questo per esempio posso citare la scarsa partecipazione di un pubblico di pubblico nelle dirette del venerdì sera, che era un po' una mission che ci eravamo dati all'inizio della nostra avventura, così possiamo chiamarla, per in qualche modo realizzare l'interazione con la diretta da parte del pubblico, ma difficoltà anche legate al poco tempo disponibile per dedicarsi a LibriTV, essendo in gran parte la redazione composta da lavoratori. Bene, ora dal passato al futuro, direi necessariamente passando per il presente, avete sicuramente notato che una parte dell'intestazione del nostro congresso accenna dopo alcuni interrogativi alla prospettiva della web tv di servizio. In effetti quello a cui ambiremmo è di essere utili con la nostra piccola grande ribalta digitale, LibriTV, per offrire ad enti ed associazioni spazi di visibilità per gli eventi da loro organizzati, oppure semplicemente ai quali partecipano, che vorranno rendere disponibili on demand, il tutto senza tralasciare ovviamente l'attività editoriale più strettamente qualificabile come giornalistica. Ed ecco appunto il ponte presente tra passato e futuro. Abbiamo già iniziato a percorrere questa via e posso fare due esempi, lo spazio Società Libera, curato da Marco Marchese, solitamente in collegamento col direttore di Società Libera, che è un'associazione, Vincenzo Lita, in cui offriamo visibilità e fruibilità agli eventi ed approfondimenti che questa associazione propone. Peraltro uno di questi eventi, La Passione della Libertà è chiamato, ha visto LibriTV presente nella doppia veste di servizio, di copertura mediatica e attrice fattivamente coinvolta nell'iniziativa. L'altro esempio è la registrazione delle sedute del settimo municipio di Roma, ottenuta grazie alla segnalazione del consigliere radicale eletto nella lista civica per marino sindaco Davide Tutino, che ha proposto con una certa insistenza la registrazione all'interno del consiglio municipale, ottenendo tramite una votazione, un assenso unanime, un assenso di fatto, non una legittimazione vera e propria, un assenso di fatto per poter registrare queste sedute municipali, che oserei definire un servizio istituzionale. Un servizio che dà la possibilità ai cittadini romani di questo popoloso municipio di Roma, che è la zona per chi è di Roma, di Cinecittà e dintorni, ma molto ampio, di poter conoscere l'iter decisionale che porta l'amministrazione municipale a prendere, per quanto le compete, i provvedimenti destinati ai cittadini. Vorremmo continuare su questa strada e il dibattito congressuale, spero, possa su questo risultare prezioso e ricco di proposte, soprattutto di offerte di collaborazione. Certo è che per realizzare questo obiettivo è necessaria sia una migliore strutturazione della web tv, sia un numero maggiore di contributi umani. In chiusura, come faccio in ogni editoriale, io porgo il ringraziamento ovviamente a tutta la redazione, a Donato Volpicella che sta curando la regia, a voi che ci avete seguito nelle varie imprese, che a volte pur nelle varie passe che ci hanno stroncato alcune serate di diretta del venerdì, vi esorto ad iscrivervi a questa iniziativa editoriale, molto semplice ed economico, si può fare tramite il sito, vi e ci auguro buon congresso e a questo punto io restituirei la linea alla regia che penso la restituirà a Marco Marchese. Grazie ancora.